Un'emozione E' come un treno sferragliante la nostalgia. Non si ferma in tutte le stazioni, ma a volte tu sali ignaro dei tuoi ricordi, poi improvvisamente dal finestrino rivedi alcuni luoghi che fanno parte della tua vita e la marea delle emozioni lambisce le pareti del tuo cuore, come l'onda si infrange sui moli. Sensazioni che credevi ormai perdute, prepotenti, affiorano e sconvolgono i tuoi sensi e la corrente della vita trascina lontano il tuo pensiero. Tradita da una lacrima la tua più bella emozione, ti risvegli come naufrago sulla spiaggia dei ricordi.